Ciao a tutti ragazzi, ora guardate in mezzo un video di illusioni ottiche per 30 secondi dovete sempre guardare in mezzo ok può bastare un attimo comunque ragazzi vedrete tipo un effetto che vabbè ci vediamo all'altro guardate sempre in mezzo per 30 secondi raga vediamo un attimo qui per 30 secondi arriviamo a un minuto da questo timer qui che lo vedete a fianco ok ragazzi togliete e adesso guardatevi intorno si vedrà un effetto strano molto strano ci vediamo all'altro ragazzi vediamo adesso per 30 secondi questo effetto ve ne dovrò mostrare altri due dopo questo 30 secondi vedete qui il timer ovviamente dobbiamo arrivare un minuto e 30 vedete qua facciamo un minuto e 35 aspettiamo un altro po' altri due secondi ci vediamo al prossimo si vedrà un altro effetto strano tutto che si rimpiccioli se si ingrandisce ora ragazzi questo qua per poco tempo fino a due minuti che vediamo quel timer e vediamo come cosa riuscite a fare dopo questo che è veramente una figata dopo averlo provato facciamo un minuto e cinque se no non ha molto effetto ok basta si vedrà un altro effetto strano ci vediamo al prossimo ragazzi adesso fino a tre minuti e cinquanta dovremmo vedere questo qua che gira sempre proviamo a vedere e vedete dopo un effetto veramente incredibile guardate ovviamente sempre il pallino in mezzo facciamo fino a tre minuti dai e questo qua è l'ultimo e ci salutiamo e ciao ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale ciao ciao